questo strumento qui piccolo piccolo che fa parte della nostra vita ormai in maniera automatica è uno strumento prezioso voi direte ma scusate io parlo leggo parole stampate a che mi serve la penna a che ti serve la penna a tante cose primo ci saranno degli elementi che tu vorrai sottolineare evidenziare vorrei farti dei segni convenzionali che ti aiutano a migliorare la prestazione ma soprattutto sei sicuro che tutto quello che dirai è proprio quello che c'è scritto non è che magari capita di fare qualche piccola correzione se non hai la penna come minimo la devi chiedere in prestito quindi sembra una sciocchezza ma pensate nel professionista ha la penna non perché voglia fare le correzioni sui compiti degli altri ma perché diventa un supporto per sé un aiuto per la tua memoria nel momento in cui sei solo davanti al microfono e rischi di aver dimenticato quella correzione quella poggiatura quel cambio di ritmo che invece ti possono permettere di far bene la performance quindi soprattutto se non siete dei picco della mirandola una buona penna ve la trovate sempre e poi rimettetevele in tasca se non non la trovate più